Buonasera, sono le nove, cominciamo la nostra breve chiacchierata sul concerto di domani. Intanto grazie a voi per essere qui e grazie a tutti quelli che ci stanno guardando o ci guarderanno i prossimi giorni streaming sul loro computer. Oggi, come vi dico, faccio una breve chiacchierata sul clavicembro perché domani abbiamo un appuntamento importante con un grandissimo solista di questo strumento, Mahan Esfahani. Il nome è un po' curioso perché in genere quando si pensa al clavicembalista si pensa a questi olandesi, tedeschi, a volte americani. Mahan in effetti è americano ma è nato in Iran, ha studiato in Italia, poi ha studiato in Polonia con una grande clavicembalista, ha una formazione di tutto rispetto anche dal punto di vista della cultura europea ed è un musicista molto curioso perché è totalmente anticonvenzionale nei suoi approcci sia nel repertorio sia nel repertorio contemporaneo. Le sue interpretazioni sono molto personali e creano sempre molto scalpore, sono molto divisive nell'ambiente, soprattutto negli ambienti della cosiddetta musica antica. Mahan Falt ha un sacco di interessi diversi, non si interessa solo di musica classica ma ha programmi per la BBC, fa commentatore, ha fatto dei documentari televisivi sulla cultura della black music a New York. Insomma è un personaggio molto poliedrico, è un intellettuale anche molto polemico, famoso anche per le sue articoli taglienti in cui appunto si diverte anche un po' a sbeffeggiare il mondo, che secondo lui è un po' ingessato, un po' palludato del mondo della filologia. La caratteristica principale dei concerti di Mahan è che lui spesso, non sempre ma molto spesso, quando nell'occasione, come l'ha avuta quando abbiamo deciso insieme il programma, accosta brani scritti centinaia di anni fa a brani del XX secolo moderni, quando non addirittura commissionati da lui, ma non è il caso del nostro concerto di domani. Ci sono brani però, fra l'altro il programma è un po' diverso, ci sarà un cambiamento che ha a che fare con la natura stessa dello strumento di cui vi parlerò. Il clavicembalo è uno strumento abbastanza conosciuto rispetto ad esempio al clavicordo che abbiamo sentito, o al fortepiano per dire che abbiamo sentito in questa stessa sala, o al clavicordo, alla spinetta, altri strumenti. Però non è certamente uno strumento popolare come il pianoforte, è stato però lo strumento principale, lo strumento più importante per i musicisti, direi quasi dalla fine del quindicesimo fino a tutto il diciassettesimo e diciottesimo secolo. è uno strumento diciamo che viene prima del fortepiano, nel senso che il fortepiano che abbiamo ascoltato noi aveva una tastiera che corrispondeva a dei martelletti che appunto picchiavano sulle corde, quello diciamo era un po' il nonno del pianoforte, mentre invece il clavicembalo è uno strumento a pizzico, cioè quando il musicista schiaccia il tasto il meccanismo interno pizzica la corda, non nulla colpisce. A differenza del pianoforte che ha delle capacità dinamiche che derivano anche dal modo in cui il pianista schiaccia il tasto, il famoso tocco del pianista, quindi può cambiare, può fare dei crescenti e diminuendi con un dito. Sul clavicembalo questo non è possibile, cioè almeno è possibile in maniera minima, tant'è vero che per cambiare colore si usano come sull'organo i registri, cioè ci sono dei registri che si possono tirare avanti e indietro e che ad esempio c'è il registro liuto che fa sì che anziché tre corde ne venga pizzicata una sola, che è un po' come la sordina diciamo nel pianoforte, quindi si ottiene un suono molto delicato. Oppure per suonare molto forte c'è un registro che se si sta suonando un clavicembalo a due tastiere, perché ci sono dei vari tipi sia con una che con due, se io sto suonando un clavicembalo a due tastiere e posso mettere un registro in cui schiacciandone una sola suonano tutte e due contemporaneamente, quindi con un molto più suono. Ma il problema vero del clavicembalo è che nonostante sia uno strumento ormai codificato, sono diversi tutti, tutti sono diversi fra di loro. Il clavicembalo italiano è completamente diverso da quello francese, che è completamente diverso da quello tedesco. Proprio come ci sono delle cose meccaniche di costruzione che sono di un po' come gli organi, sono strumenti vivi, non sono strumenti che una volta che sono stati fatti in fabbrica, non sono fatti in fabbrica, sono strumenti realizzati a mano da artigiani e quindi come tali, un po' come i violini, ognuno ha una sua personalità. Perché abbiamo dovuto fare questo cambiamento di programma? Breve fra l'altro però c'è. perché quando un anno fa ho deciso di invitare Mahan e abbiamo fatto insieme il programma, lui aveva detto che per fare quel programma aveva bisogno di un certo tipo di clavicembalo con delle caratteristiche meccaniche di un certo tipo per fare quel programma e noi glielo avevamo trovato, avevamo trovato una persona che affittava questo strumento. Meno di un mese fa questa persona mi scrive che mi dice che ha venduto quello strumento. A questo punto Mahan è andato in tilt perché la sua intenzione era quella di fare tutti e tre i famosi pezzi di lighetti per clavicembalo, quindi oltre alla passacaglia ungherese fare anche Hungarian Rock e Continuum che sono due fra i capolavori assoluti del repertorio moderno al clavicembalo. Però Continuum e anche in parte Hungarian Rock è fatto sulla ripetizione velocissima di note ribattute. Il clavicembalo che noi abbiamo trovato per Mahan non andava bene per fare questo, cioè non funzionava questo tipo di tecnica ribattuta sulla meccanica di quello strumento perché è uno strumento pensato per fare altre cose, per fare un altro repertorio. Allora lui ha tenuto la passacaglia ungherese che è un pezzo abbastanza lento, tranquillo e ha sostituito, molto a melincuore, Hungarian Rock e Continuum con un brano di Gavin Bryars che si chiama After Handel's Vesper che è una specie di meditazione, come dire, un po' psichedelica perché deriva da un sogno, cioè Gavin Bryars ha sognato Handel, anziano e ormai cieco come la famosa operazione dovuta allo stesso medico che aveva cercato pure Bach e l'immaginava alle prese con un brano che non esiste di Handel che si chiamava I Vespri e lui immaginava di aver preso dei temi di questa composizione inesistente di Handel ma nello stile di Handel e ha scritto un brano che è una specie di meditazione su questo Handel immaginario e in più come ai tempi di Handel naturalmente la loro lamentazione era libera come abbiamo detto anche quando abbiamo parlato del fortepiano cioè i clavicembalisti e i musicisti non suonavano solo quello che vedevano scritto sulla parte ma erano liberi di, anzi dovevano mettere fioriture, frasi e aggiungere nel loro così deve fare anche chi suona questo brano di Gavin Bryars dove c'è scritto in parte quello che bisogna fare e una parte invece poi è lasciata all'estero nel momento questo è un brano che va benissimo invece per la meccanica dello strumento che abbiamo trovato quindi capita spesso che su certi strumenti si possano fare solo alcuni repertori e non altri, a volte per motivi di accordatura, a volte per motivi di estensione dello strumento specie quando si suonano quelle a una tastiera sola è ogni volta diverso e anche le stesse scuole sono diverse naturalmente si parte della più antica che è la scuola italiana quella di Fresco Baldi, dei grandi cembalisti, di Scarlate e poi dopo più avanti c'è la scuola dei Fiamminghi, la scuola francese, la scuola, naturalmente c'è Bach e ognuno di loro aveva strumenti diversi, caratteristiche diverse questo problema c'è anche con gli organi, su non tutti gli organi si può fare tutto mentre su un pianoforte moderno, più o meno, io posso fare tutto l'opertorio che voglio più o meno, sì, ci sono dei pianoforti come il famoso Bosentorfer che ha tre tasti in più nel registro basso, ma sono rarità la maggior parte dei pianoforti ormai è uno standard io voglio fare list, voglio fare beri, voglio fare puccini posso fare qualsiasi cosa, mi va bene qualsiasi pianoforte con strumenti come il cembalo e l'organo questo non è possibile ogni volta bisogna andare a vedere che strumento si ha e in base alle caratteristiche che ha lo strumento stabilire il repertorio perché era così popolare il clavicembro? il clavicembro è stato per secoli popolarissimo non tanto come strumento solista anche se era lo strumento preliletto dai dilettanti un po' come sarà poi il pianoforte nella metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento c'erano tante persone che suonavano il pianoforte per hobby, con repertori fatte apposta per loro quindi si era usato come strumento diciamo di compagnia però di base il suo impiego era nel basso continuo cioè in tutte le opere, fin dalle opere di Monteverdi fin dalle prime, fino a quelle barocche eccetera l'accompagnamento strumentale era sempre di qualche strumento d'arco a volte c'era la tiorba e c'era sempre il clavicembro che realizzava quindi il basso di accompagnamento questo addirittura era talmente ovvio che ci fosse che spesso i compositori neanche la scrivevano a parte davano per scontato che ci fosse il basso continuo tutte le opere di Vivaldi ma tantissime, tantissime composizioni nelle cantate sacre sempre voce, arco quando vedete scritto da qualche parte voce, violini e continuo il continuo comprende quasi sempre praticamente sempre il clavicembro in quel caso la sua è una funzione armonica di accompagnamento e di fioritura ma non è la parte principale nello stesso tempo però grazie appunto a grandi tastieristi grandi geni dell'improvvisazione uno fra tutti appunto Fresco Valdi, uno dei primi nasce un repertorio di intavolature per cembalo per chi voleva cominciare a cimentarsi nelle parti soliste e naturalmente anche se lui il cembalo non poteva offrire una delle grandissime dinamiche perché comunque stiamo parlando di un strumento che ha un volume sempre non inesistente come quello del clavicordo o della spinetta che erano appunto strumenti da suonarsi da soli però certo ancora abbastanza da camera e soprattutto nonostante il fatto che non avesse questa possibilità dinamica di far aumentare mentre si suonava il colore aveva comunque una possibilità con i registri di avere diversi colori quindi di mettere in luce le varie voci ed infatti era perfetto ed è perfetto per una musica altamente contrapuntistica come quella appunto di Bach o come quella di Scarlatti o di Frescobaldi alcune delle prime composizioni sono quasi delle trascrizioni di improvvisazioni se noi sentiamo appunto la musica di Frescobaldi e la suoniamo nello stile in cui va suonata sembra di sentire un musicista che appunto fa le cosiddette toccate il termine toccata deriva da questo che vuol dire mettersi allo strumento e cominciare a suonare quello che mi viene in testa e poi improvvisare quindi composizione della forma libera quasi appunto improvvisativa però ad esempio se pensiamo a autori appunto come Bach questo è la musica è molto più strutturata ad esempio la musica francese perché a Vicembalo c'è una quantità incredibile di ornamentazioni Rameau ad esempio molto più che in Bach o molto molto di più che negli italiani l'idea delle fioriture dei drilli c'è di lì sono interi trattati in Francia su come realizzare le ornamentazioni che diventano una volta addirittura hanno il sopravvento sulle linee principali il repertorio che ci propone Mahan Domani nella prima parte invece è un repertorio inglese del periodo elisabettiano che sono musiche meravigliose il cui stile è profondamente influenzato dalla scuola italiana ma che hanno anche delle caratteristiche proprie prima di tutto queste sono anche queste tutte musiche di autori che erano a loro volta grandissimi esecutori quindi Jill Farnaby John Bull Thomas Tombins non erano solo dei compositori erano prima di tutto dei grandissimi clavicembalisti e tutti questi autori più decine decine di altri hanno partecipato a quella che è stata la prima raccolta di cui noi abbiamo conoscenza completa di grandi musica per clavicembalo che si chiama il Fitzwilliam Virginal Book il titolo è Virginal perché era riferito in realtà non è pensato per uno strumento solo cioè molti di questi brani si possono suonare sul clavicembalo o sul virginale che è una specie di clavicembalo portatile senza senza le gambe si può si mette su un tavolo è un suono un po' più delicato però diciamo era la versione portatile del clavicembalo si possono suonare sull'organo si possono suonare sull'organo positivo insomma loro non hanno scritto perché cosa sono queste pagine adesso ci sono stati anche dei dischi moderni in cui vengono suonate sul pianoforte diciamo che sono per strumento a tastiera in realtà chi abbia realizzato bene questa raccolta non si sa è uscita nel 600 ci sono delle leggende che si è stata messa insieme da un musicista mentre era rinchiuso in carcere mentre stava scontando la pena ha raccolto e rimesso insieme tutti i vari autori c'è chi invece dice che siano stati chiesti appositamente a questi autori brani per questa antologia che è diventata in pochissimo tempo la più popolare anche appunto fra i dilettanti perché è composta di 300 e qualche cosa composizioni tant'è vero che non esiste ancora oggi una incisione intera ci sono moltissimi dischi ma tutti di varie varie sezioni del libro all'inizio si chiamava il libro della regina Elisabetta si chiama Queen Elizabeth Book ma pare che in realtà la regina Elisabetta dell'epoca non l'avesse mai visto quindi poi fu ribattezzato il Fitzwilliam Virginal Book perché quando ci fu un mecenate che venne in possesso di questo libro e lo portò nel suo castello che stava appunto in un posto che si chiamava Fitzwilliam e da lì il nome è rimasto è una specie di mega zibaldone una specie di greatest hits una raccolta di successi chiamiamola così di brani che all'epoca erano popolarissimi e di cui un buon 70% non sono altro che versioni per tastiera di canzoni popolari che esistono anche in decine di altre versioni per liuto per voce eccetera spesso sono delle variazioni che questi grandissimi compositori facevano proprio su brani popolari ci sono le variazioni su un esempio su una canzone che allora era famosissima che si chiama Selling Earth Round e poi ci sono Marce ci sono Ninnananne non c'è un vero criterio con cui sono assemblati questi pezzi se non fosse che all'epoca erano tutti popolarissimi e quasi tutti i musicisti li conoscevano e il pubblico li conosceva quindi quando un musicista attaccava uno di questi pezzi la gente riconosceva proprio la melodia infatti il domani Mahan ci presenta una selezione naturalmente di questi essendo una specie così di brogliaccio messo insieme senza un criterio unitario stilistico è molto interessante questa raccolta perché ci dà un'idea dell'enorme varietà stilistica che all'epoca c'era perché ci sono brani che sono influenzati dallo stile italiano ci sono dei brani appunto che sono iper ornamentali come se fossero stati scritti da musicisti francesi ci sono questi brani inglesi invece dove principalmente quello che conta è appunto la melodia popolare che viene fuori poi ad esempio molte di queste sono variazioni in cui all'inizio si sente il tema e poi ogni variazione è sempre più difficile ci sono pagine difficilissime da suonare che possono essere suonate solo dai più grandi virtuosi e ci sono invece magari due pagine dopo un brano che può essere letto a prima vista da uno che studia il clavicembalo da pochi anni quindi ce n'era veramente un po' per tutti e quindi questo Fitzwilliam Virginal Book ebbe un successo enorme fu diffuso veramente dappertutto diventò una specie di bibbia del clavicembalo e fu studiato da un sacco di musicisti naturalmente di compositori anche perché l'idea di allora di prendere temi di carattere popolare o celebri canzoni e costruirci su dei brani chiamiamoli classici non era affatto vista come una cosa di disprezzo come se io oggi mettessi insieme una raccolta dove prendo le canzoni popolarissime di Domenico Modugno piuttosto che di altri artisti di canzoni e gli faccio scrivere delle variazioni sopra da compositori oggi sarebbe vista come un'operazione forse un po' furba un po' commerciale non è detto mentre allora era normale nella prassi per i compositori inserire brani della tradizione popolare di anonimo brani che la gente cantava quindi non c'era questa distinzione fra l'arte alta e l'arte cosiddetta bassa come si dice oggi anzi l'arte si nutriva di questa linfa linfa popolare e quindi sono canzoni alcune prese da melodie francesi ma rielaborate da inglesi altre sono delle variazioni addirittura sul Lamento di Tristano che è una delle prime melodie che ci sono rimaste per iscritto che risane la notte dei tempi e così via alcuni autoni sono più celebri di altri ad esempio Gilles Farnaby e Bull sono molto più famosi di Thomas Tompkins per dire molti sono diventati famosi anche se non erano cembalisti per esempio John Dolan perché alle loro melodie sono state inserite nel Fitzwilliam Virginal Book e rielaborate una buona metà di questo libro c'è scritto anonimo come autore non si sa chi ha fatto queste elaborazioni è comunque una delle pietre miliari del repertorio cembalistico ancora parecchio da scoprire però il repertorio della musica elisabettiana da noi non è molto noto nonostante sia una musica non solo bellissima ma estremamente immediata proprio a causa di questo carattere popolaresco che è una musica molto accessibile mentre ad esempio su certe pagine francesi o fiamminghe iper contrapuntistiche ci può essere un lavoro di elaborazione tale che porta addirittura ad essere a certi punti quasi astratto come anche in certi pagine dell'ultimo Bach che comunque poi ci viene proposto perché ci viene proposto il ricercare dell'offerta musicale di Bach ecco lì siamo diciamo nella pura astrazione è una tale perfezione di costruzione che si entra un po' in un'altra atmosfera nella musica che viene proposta nel primo tempo questo non c'è anzi spesso queste musiche venivano utilizzate per ballare quindi sono musica molto allegra e molto molto vivaci ricche di effetti anche spettacolari sulla tastiera è una musica che può piacere veramente a tutti ma che non so per qualche motivo in Italia viene proposta molto molto raramente sia a livello vocale pensiamo ai meravigliose canzoni di Dolan appunto che a livello strumentale quindi abbiamo pensato dovendo fare cioè l'ideare di fare comunque qualcosa di Bach che quest'anno come vedete è un po' presente in parecchi concerti fa un po' da Red Union e che tornerà infatti dopo con la seconda serie delle sue di Bach di Enrico Dindo e lui ha scelto appunto un brano tratto dell'offerta musicale di Bach per chi non sapesse che cos'è l'offerta musicale di Bach è diciamo uno dei due ultimi grandi capolavori del maestro tedesco risale veramente alla fine della sua attività ed esta nasce con una specie di scommessa l'offerta musicale lui va a trovare Federico di Prussia che era un flautista dilettante e Federico gli offre una sfida dice io ti do un tema scritto da me e tu sul momento lui ovviamente alla corte perché come sapete appunto come abbiamo detto anche svariati in altre conferenze era indispensabile per un musicista saper improvvisare al momento anche con i temi che gli venivano dati sull'istante e Federico che era appunto un flautista gli suona questo bravo un tema che è un tema fatto non facilissimo con un sacco di passaggi cromatici eccetera e sul momento Bach improvvisa per lui una fuga a tre voci poi però quando torna a casa sua non gli basta quello che ha fatto e comincia a pensare a questo tema e a lavorarci ancora su finché costruisce sopra questo tema ma che è un tema di poche battute otto battute una vera e propria cattedrale enorme di variazioni di ogni tipo e soprattutto costruite anche secondo principi principi enigmistici degli indovinelli prima di tutto lui non scrive perché cos'è né l'offerta musicale né l'arte della fuga specificano con che strumenti bisogna suonarla tant'è vero che nell'ottocento ma anche fino a una buona parte del novecento fu considerata cosiddetta augenmusik musica per gli occhi cioè era una musica puramente speculativa c'è chi sosteneva addirittura che non andasse non bisognasse suonarla bisognava solo apprezzare la perfezione assoluta del contrapunto delle risposte di questi indovinelli che Bach pone ci sono alcuni numeri dell'offerta musicale così come l'arte della fuga che hanno più chiavi ad esempio sono scritte in chiave di violino e poi vicino c'è una chiave di basso e in fondo c'è una terza chiave che potrebbe essere non solo la chiave di contralto e il pezzo è scritto su una riga sola ma in realtà questo è un pezzo da suonare in tre cosa vuol dire? vuol dire che uno dei tre musicisti suona e legge in chiave di violino da qui a qui l'altro legge la stessa cosa ma in un'altra chiave e l'altro la legge al contrario in un'altra chiave e il risultato suona meravigliosamente cioè lui aveva calcolato tutto in modo che già leggendo su una riga lui sapeva che in tre chiavi diverse e lette in tre modi diversi avrebbero suonato bene per questo si diceva che questi erano dei tali virtuosismi di divertimento di combinatorio che il divertimento stava nello scoprire queste cose non nell'ascoltarle in realtà il miracolo di questi lavori sia di questo che dell'arte della fuga è che questo che poteva diventare diciamo un giochino intellettuale freddo anche se vogliamo di tutto di calcoli dà vita a una musica meravigliosa e straordinariamente espressiva che quasi contrasta col fatto di essere così messa insieme in maniera assolutamente perfetta razionale matematica alcuni brani sono calcolati secondo la sezione aurea quindi numero di battute quando arriva al massimo si arriva al massimo del contrapunto dopo un certo numero di battute poi si torna indietro poi ci sono dei momenti in cui Bach stesso sfida il suo interlocutore ce n'è uno dove dice cercando troverai scrive prima di una variazione e lì bisogna capire cercare capire qual è l'inizio giusto della frase per farlo quadrare spesso appunto ci sono brani scritti con più chiavi appunto brani a leggere in vari modi e mentre l'arte della fuga è incompiuta e l'offerta musicale no e lui da questo temino che sembrerebbe veramente anche un po' esile e lui riesce a tirare fuori altro che il sangue della rap cioè una cosa incredibile riesce a trasformarlo in alcuni numeri vengono fatti solo con il clavicembro ad esempio altri con il flauto in genere quando la fanno adesso ci sono dalla versione in quartetto 4 e 5 fino a versioni per grandi orchestra perché si può scegliere al momento come farli quindi questo tipo questo tipo di musica è altamente intellettuale ma nel caso di Bach appunto questo gli impedisce di essere meravigliosa questo tipo di di speculazione non esiste assolutamente nella musica elisabettiana cioè proprio non c'è non che non sia raffinata dal punto di vista contrapuntistico perché lo è molto perché questi compositori non erano degli sprovveduti erano gente che sapevano perfettamente il fatto loro che spesso avevano studiato anche in Italia proprio con Fresco Baldi o con Scarlatti questi grandi musicisti però non erano interessati a queste dimensioni così speculative erano interessati più che altro al piacere di fare musica e a fare una musica che divertisse un po' sia chi suonava che l'ascoltava anche per fare questo repertorio non tutti gli strumenti vanno bene ci sono dei casi in cui ci sono addirittura dei concerti dove i clavicembalisti si portano più clavicembali sul palco non è il caso nostro di domani ma perché non solo alcuni hanno tipi di intonazioni diverse ad esempio se noi facciamo la musica di Froberger che è un compositore tedesco che è molto influente è extremamente denso dal punto di vista contrapportistico lui chiedeva un'accordatura ai tempi di Froberger il clavicembali era accordato quasi due toni due note sotto quello che noi sentiamo oggi quindi il suo do quando lui scriveva do e per lui era un do per noi è un la quindi se voi sentite la musica di Froberger suonata su uno strumento del suo tempo è accordata come voleva lui è scurissima ha un colore molto molto particolare perché è tutto in basso è tutto il diapason è incredibilmente più basso del nostro e lui la voleva così e va ascoltata così e lui è un po' il maestro diciamo della meditazione la sua musica non è per niente spettacolare sono una serie di continui ragionamenti contrapuntistici su fantasie molto libere insomma è una musica certo destinata a un pubblico molto più ridotto non è diventato mai un compositore popolare è un musicista per musicisti diciamo però ecco lui suonato su un clavicembro come non vuole lui ha un sapore completamente diverso cioè non è quello non è quello che chiedeva lui il sound è completamente diverso Bach ad esempio non fa di queste richieste però noi sappiamo che il diapason dei tempi di Bach era più basso del nostro noi oggi stiamo ormai schizzando verso le stratosfere del 443 addirittura 445 di certe orchestre ma è una follia il diapason di Bach era 415 anche un po' meno era infatti l'ascolto non è un caso che l'ascolto di musica antica eseguita non tanto sui strumenti antichi ma con l'accordatura antica sia più riposante dia un effetto più riposante al nostro orecchio rispetto a quella suonata con gli strumenti a 442 che spingono sempre più in alto e che sono molto più in tensione quindi cambiava tutto cambiavano le accordature cambiavano i diapason cambiavano i colori era un mondo perennemente in divenire insomma instabile ma instabile allo stesso tempo e questo è il bello anche di ascoltare la musica del clevicevolo perché molti dicono che il clevicevolo ha un suono tutto uguale che assolutamente non è vero perché appunto non può fare la dinamica del pianoforte ad esempio non ha il pedale per fare il legato ovviamente non ha il pedale di sostegno che sostiene il suono il suono rimane finché ma nemmeno finché io schiaccio il tasto come sull'organo lì rimane a lungo invece qui pizzica la nota e poi naturalmente dopo un po' se ne va e quindi c'erano delle tecniche particolari al tempo di Bach ad esempio si chiamavano bebung per cui tu facevi una specie di micro ribattuti per dare la sensazione di prolungare il suono che non potevi prolungare per renderlo dicevano più simile al canto della voce umana quando si faceva una melodia perché la meccanica era quella non permette di diciamo suoni lunghi e per molti questa uniformità dinamica è un grosso problema molti preferiscono ascoltare a bacca il pianoforte perché dicono che ha più colori ma in realtà quando si ascolta un clavicembo lo suonato come si deve e con competenza si vede che i colori dello strumento sono tantissimi non solo per via dei vari registri che comunque possono essere articolati e cambiati con molta fantasia permettendo di fare tantissime sfumature dinamiche diverse ma proprio anche per la bravura dell'interprete che comunque può fraseggiare io penso che questa monotonia considera finta monotonia del cembolo sia dovuta al fatto che sono i cemboli che si sono ascoltati quando il clavicembo è tornato in auge perché il clavicembo è stato appunto lo strumento per eccellenza per molti secoli poi nel dopo Mozart diciamo da che cominciano poi a nascere il fortepiano e il pianoforte il clavicembo lo solista sparisce completamente cioè rimane solo come strumento di basso continuo che è incredibile se si pensa alle centinaia di migliaia di pezzi che sono stati dedicati a questo strumento a un certo punto il repertorio si ferma nessun autopositore romantico ha scritto per clavicembo cioè in quegli anni era completamente dimenticato dobbiamo aspettare il novecento i primi del novecento verso gli anni venti più o meno perché ci sia questa clavicembalista polacca Wanda Landowska che si appassiona questo strumento lo studia ma ne fa costruire uno che è il cosiddetto cebolo moderno il Pleiel che è un bestione una specie di catafalco con due tastiere pesantissime una meccanica molto pesante che è un po' il contrario di come era il clavicembal una volta che ha un volume di suono molto più grande di quello dei clavicembal che vedrete usare domani ad esempio perché era il cosiddetto cebolo moderno col quale lei fa le prime registrazioni lei negli anni 30 fa la prima registrazione delle variazioni Goldberg aveva due tastiere aveva i registri ma è proprio una specie di sferragliare a dei volumi che aveva un suono totalmente diverso molto più pungente molto più aggressivo anche è famosa la famosa definizione di Furt Wengler che odiava il suono di questo clavicembal gli diceva che secondo lui il clavicembal gli ricordava due scheletri che copulano su una lamina di metallo ecco quindi era proprio perché era un suono molto che se voi sentite le incisioni che poi oggi naturalmente non sono più valide dal punto di vista filologico ma sono validissime dal punto di vista musicale sono ancora bellissime della Landowska il suono dello strumento però è veramente brutto perché è un suono pesantissimo proprio una meccanica che si sente tutto sferragliare della meccanica cioè nonostante la Landowska non solo fu responsabile della rinascita del cembalo come strumento solista ma aveva capito che questo strumento non poteva sopravvivere solo riproponendo le musiche del passato ma cercò di creare un repertorio nuovo e infatti due fra i più grandi capolavori del novecento che sono il concerto di Emanuele De Faglia e il concerto campesta di Pulanc sono stati iscritti proprio per lei per il suo clavicembalo questo ha fatto sì che i compositori De Faglia poi lo usò anche nella sua famosa opera per Marionette il retembro del mese Pedro e un po' alla volta poi ci fu Buaslav Martino ci fu Indemith ricominciò a prendere piede l'idea di scrivere questo clavicembalo solista e infatti per questo noi vogliamo concludere con due brani i brani dei famosi di Lighetti che sono i vari più importanti e una strana curiosità di Berio perché la chiamo curiosità perché il pezzo di Berio dura circa un minuto e venti secondi si chiama Rounds ed è stato scritto per un'altra grandissima clavicembalista sono state le donne proprio le protagoniste di questa rinascense del clavicembalo che era un po' diciamo la musa del clavicembalo d'avanguardia negli anni di Darmstadt che si chiamava Antoinette Vichet e Rounds il pezzo di Berio è un brano del 67 ed è un brano che ovviamente è un brano che ha un linguaggio estremamente d'avanguardia ma sembra quasi prendere in giro ironicamente questo stesso linguaggio perché è un brano che non è scritto con una notazione convenzionale di note ma è una notazione quasi gestuale ed è appunto è brevissimo e il titolo Rounds letteralmente significerebbe Rondò quindi è una composizione che ritorna su se stessa circolare ma in questo in questo caso la definizione è ironica perché il musicista deve leggere la partitura poi deve girarla al contrario e suonarla al contrario da cima a fondo proprio un po' come si faceva con quelle di Bach solo che il risultato è che veramente io ho visto che le note di copertine che sono state scritte per domani parlano del risultato come quello di un elaboratore elettronico impazzito perché in effetti è vero sembra proprio che il clavicembalo cerchi di imitare quelle che erano allora le sonorità della musica elettronica ma è tutto fatto diciamo in punta di matita tutto molto sorridente tanto è vero che la stessa idea che il musicista gira la partitura è ironica e quindi è un po' chiamiamolo un piccolo scherzo che Berio aveva fatto quasi prendendo in giro dall'interno con l'avanguardia di cui erano uno protagonista i pezzi di Lighetti invece sono molto diversi uno che è quello che purtroppo non possiamo fare per motivi di meccanica è un esempio di vera e propria illusione acustica continuum perché è fatto è un pezzo talmente veloce l'indicazione è il più veloce possibile va suonata il più veloce possibile e la partitura non sono altro che decine centinaia migliaia di ottavi uno in fila l'altro senza nessun'altra indicazione quindi se le suona così veloce è talmente veloce che il nostro orecchio non la percepisce più appunto come ritmo di ottavi ma come un continuo appunto un'onda unica di note e questo fa sì che ci siano delle parti in cui sembra addirittura che ci siano delle progressioni di accordi ma non sono accordi sono talmente veloci che il nostro orecchio fa in tempo a percepirle il suolo assieme e non singolarmente quindi è un caso molto particolare di illusione acustica che questa volta non riusciamo a farvi sentire spero di riuscire a riproporvela più in qualche che altre stagioni l'altro brano invece che aveva scritto era una risposta polemica ai suoi allievi che negli anni Ottanta si ribellavano alle avanguardie e che gli facevano ascoltare i dischi rock infatti questo si chiama Hungarian rock perché non ne potevano più appunto della statica di Dunstan diceva che volevano ascoltare altre cose Lighetti era un grande appassionato di jazz ma non frequentava molto le altre musiche e invece non so i suoi allievi lo costringevano a lezione ad ascoltare Breakfast in America dei Supertramp e dicevano che loro volevano fare una musica più comunicativa più ispirata a queste cose più immediata meno astratta che bisognava guardare anche quel mondo lì allora poi Lighetti scrive un brano che è basato come molti brani rock su un cosiddetto riff cioè su un'unica frase che si ripete sempre uguale dall'inizio alla fine un ostinato ritmico nel suo caso più che rock sembra Bartok però l'idea è di creare quindi un brano iperpoliritmico che è molto immediato che chiedesse questa idea di immediatezza invece il brano che ascoltiamo domani che è curiosissimo si chiama Passacaglia Ungherese anche questa è una specie di omaggio sia a Bach che ad autori che lui amava molto come Frescobaldi aveva già scritto negli anni 50 un omaggio a Frescobaldi per pianoforte prima di tutto questo brano ha un'accordatura diversa da quella normale perché è accordato in modo mesotonico ovvero sia è accordato in modo che tutti gli intervalli di quinta siano esatti fra di loro le cosiddette quinte pure cosa succede? se io accordo così clavicembalo è vero che alcuni intervalli sono esattamente giusti dal punto di vista delle frequenze questo fa sì che altri non lo siano più e quindi clavicembalo sembra chiamiamolo fra virgolette stonato su alcune note su altre note quindi si ha la sensazione come si ha quando si ascoltano certi strumenti ungheresi oppure anche alcuni degli strumenti di strumentazione indiana dove il musicista suona fra le note non necessariamente le note ma suona magari quarti di tono e si ha questa idea di una musica che è instabile dal punto di vista dell'intonazione questo è quello che succede nella passaglia ungherese di Ligeti che è un brano apparentemente tradizionale che però ha questo trucco di intonazione che fa sì che all'inizio si rimanga un po' sembra accordato male allo strumento invece poi l'orecchio si abitua a tutto e quindi si abitua anche a questo questi intervalli non ci sembrano più strani del resto io ho letto una volta una storia un aneddoto su Stravinsky e Indemith che avevano trovato un pianoforte tutto accordato a quarti di tono anziché normalmente e all'inizio gli sembrava stonatissimo avevano provato a suonarci e dicono no che disastro non ce la faremo mai invece nel giro di pochi minuti l'orecchio si è immediatamente sintonizzato su questa nuova accordatura e non avevano avuto più problemi il problema ce l'avevano avuto dopo quando erano andati al ristorante dove c'era la musica di sottofondo che invece era chiamiamola accordata normale che a loro sembrava stonatissima perché avevano ancora le orecchie il cervello sintonizzato sui quarti di tono e quindi la musica gli sembrava sbagliata in un altro senso quindi è un programma curioso domani anche perché comunque questo pezzo di Gavin Brails è molto bello e Gavin Brails è un autore molto importante che ritroveremo più avanti anche non quest'anno ma negli anni prossimi è un compositore che ha ormai una sessantina d'anni e che appartiene a un'avanguardia molto particolare che è l'avanguardia inglese degli anni 70 che non ha niente a che vedere con quella che noi chiamiamo l'avanguardia di Bull Haze Stockhausen eccetera era un'avanguardia molto particolare perché era molto influenzata sia dal gruppo di Fluxus degli situazionisti di Fluxus sia che da John Cage e soprattutto era un'avanguardia che utilizzava la storia della musica come base prima ancora che esistesse il postmoderno cioè la storia della musica era una specie di enorme soffitta dove il compositore poteva prendere oggetti di qualsiasi epoca e assemblarli in modo anche paradossale fra di loro loro avevano ad esempio che lui è uno dei fondatori di un gruppo che si chiamava Scratch Orchestra che con tipico humor inglese come funzionava la Scratch Orchestra è un'orchestra fatta di persone però ognuno doveva avere uno strumento che non sapeva suonare quindi non so il violinista suonava il trombone il flautista suonava il violoncello eccetera quindi i risultati erano volutamente paradossali e quasi quasi catastrofici nel senso che erano proprio suonava sembrava un'orchestra di ubriachi e avevano fatto ad esempio un famoso disco con l'ouverture del Guillermo Tell suonato in questo modo c'era questo umorismo anche molto britannico nel fare le cose poi con l'andare del tempo la musica di Briars è cambiata completamente diciamo ha perso questa componente paradossale umoristica e si è è andata invece nella direzione di una grandissima cantabilità di un grande lirismo in genere lui e Michael Nyman sono considerati un po' gli estremi perché mentre Michael Nyman fa una musica come poi sentirete qui a fine anno molto allegra molto ritmica molto viene usata anche molto nella danza la musica di Briars è invece molto meditativa molto cantabile molto dolce però entrambi mantengono questa idea di usare quelle che loro chiamano i detriti della storia quindi Nyman magari prende un frammento di Mozart e gli applica le tecniche minimaliste e in questo caso questo after Handel's Vesper anche se è un Handel immaginario ci sono delle armonie e delle tecniche barocche che vengono rimmaginate da Briars in un altro modo cioè in un modo che certo Handel non avrebbe usato però il materiale è quello è un compositore consonante la sua musica spesso questa è una musica molto immediata però è una musica anche molto malinconica molto inglese anche in questo senso quindi ha perso la sua carica diciamo sarcastica che lo quando era giovane questo è un po' questo gufo un po' dello sberleffo e invece lui ha scritto molte opere liriche perché appunto questa cantabilità si adatta molto alle voci ha scritto un sacco di bellissimi madrigali lui è un grande appassionato di Gesualdo in Monteverdi e ha scritto già cinque libri di madrigali bellissimi su testo di quasi tutti su testo di Francesco Petrarca è molto legato quindi alla nostra cultura e questo brano diciamo abbiamo sostituito una parte più spettacolare come senz'altro sarebbe stata quella di Lighetti con una parte un po' più meditativa però io credo che se non conoscete la musica di Gevin sarà una bella sorpresa e quindi questo il clavicembro ieri, oggi e domani è un titolo ipervago nel senso che a un certo punto dopo che negli anni 60, 70 è rinato il clavicembro da quel momento c'è stata una fioritura enorme di brani per clavicembro esistono brani per clavicembro di Zanakis che sono molto famosi esiste il doppio concerto di Elliot Carter per pianoforte clavicembro e orchestra ci sono brani di Castiglioni di Donatoni c'è un repertorio enorme per chi vuole e poi ci sono brani nuovi che vengono continuamente commissionati ad esempio Mahan settimana scorsa ha fatto due brani nuovi uno di Kevin Volans e uno di una compositrice iraniana che oltre al clavicembro lo usa anche l'elettronica cioè oggi per chi vuole fare un repertorio ci sono centinaia di brani per clavicembro Francesco Pennisi è stato il Goffredo Petrassi ha scritto la sonata da camera per clavicembro la serenata per clavicembro ha cinque strumenti cioè adesso è rientrato nel repertorio anche se naturalmente è uno strumento che comunque rispetto al pianoforte rimane di nicchia perché non è facile uno trovare chi lo suona bene non è facile trovare chi ha voglia di suonare il repertorio contemporaneo è uno strumento difficile da equilibrare quando si suona negli ensemble perché comunque ha un volume di suono sì anche perché diciamo i cembali della Landovska oggi non si suonano quasi più vengono usati solo appunto per poter fare questi brani degli anni settanti che si erano stati scritti specificatamente per quello strumento lì e bisogna farlo su quegli strumenti lì ma se no quel tipo di cembalo così fracassone oggi non viene quasi più usato e quindi è difficile poi quando si mettono insieme il clavicembalo e altri strumenti è difficile equilibrarlo insomma è uno strumento delicato quindi questo fa sì e questi limiti diciamo tecnici lo abbiano reso comunque molto popolare con il ritorno della musica antica con la scuola filologica poi è tornato ad essere uno strumento molto popolare grazie a grandissimi solisti pensate a Gustav Leon ad esempio uno per tutti ma anche Trevor Pinnok Tom Copman oggi quando abbiamo inaugurato con i quattro cembali di Bach tutta questa scuola che veniva dall'Olanda e dalla Germania ha riportato in auge diciamo il clavicembalo antico nello stesso tempo molti compositori anche in America hanno cominciato e c'è tutto un repertorio adesso molto forte e ultimamente c'è la tendenza che è una tendenza che è iniziata abbastanza poco ma che mi sembra in grande sviluppo a abbinare appunto il cembalo all'elettronica però su questo so abbastanza poco e quindi ho sentito pochi esempi ma vedendo i cataloghi o vedendo quello che viene programmato vedo che la direzione è quella di unire questo suono così puro il clavicembalo e magari cambiarlo spazializzarlo distorcerlo con l'elettronica quindi è uno strumento che senz'altro ha ancora molto da dire non è affatto uno strumento esaurito come si credeva qualche secolo fa e anzi più passa il tempo più ci sono nuove generazioni di strumentisti si scopre che anche questo strumento che era considerato così neutro è invece uno strumento straordinariamente espressivo e capace di grandissima cantabilità ma anche di grande impeto ritmico insomma basta che sia nelle mani giuste e domani sera senz'altro potete stare sicuri che è nelle mani giuste fra l'altro Mahan avendo studiato in Italia parla benissimo italiano io domani cercherò a convincerlo a dire magari se vuole qualche parola prima di perché poi lui conosce tutte bene le storie anche dei brani che stanno dietro al Fitzwilliam Virginal Book vedo se riesco a convincerlo a fare qualche breve presentazione prima dei brani o prima di ogni ciclo di brani che puoi aiutare ulteriormente se no spero di avervi raccontato abbastanza questa sera se avete qualche domanda sullo strumento o sul repertorio bene se no io vi ringrazio e vi do appuntamento naturalmente domani sera tutto chiaro non ci sono domande o curiosità sui brani che dovrete sentire domani infatti domani secondo me queste cose che sono state dette provavo a immaginarvi i suoni no? e quelli li scopriremo domani perché quando arriverà questo famoso clavicemalo diverso anch'io sono molto curioso di sentire di vedere com'è perché veramente ognuno fa storia a sé altro sono strumenti delicatissimi solo nel tempo che vengono trasportati si scordano completamente bisogna riaccordarli tutti bisogna accordarli in continuazione ci sono casi in cui vanno accordati anche a metà concerto perché sono corde di ottone che si scordano basta un po' di umidità e si scorda basta un po' di freddo e si scorda basta può scordarsi anche mentre si suona quello è il problema è come l'arpa super delicato e va continuamente accordato fragilissimo è una cosa di stare molto attenti ad esempio gli possono dare fastidio le luci le luci sul palco possono cambiare l'intonazione far calare o crescere l'intonazione dell'instrumento quindi bisogna fare tutte queste prove e metterle in una condizione in cui poi chi comunque pochi minuti prima del concerto viene di nuovo riaccordato perché nel tempo che uno va a bere un caffè l'instrumento va giù è un strumento è come un bambino super delicato tanto bisogna portarlo con un camioncino apposta non è che lo si può mettere su un aereo solo per trasportare questo strumento è molto complicato se vuole dire qualcosa no? no? ok benissimo allora ditemi voi se c'è qualche curiosità bene se no volevo sapere io dunque qualcosa su Gavin Bryars che conosco però mi interessava se esistono dei documenti lo so lo so che ha suonato con Derek Bailey si viene anche fatto anche dal jazz all'inizio se c'era qualcosa della scratch orchestra scratch orchestra non so credo che esista un vecchio LP con questa catastrofica versione di Guglielmo dove ognuno suona quello che non sa suonare e loro facevano questi happening molto divertenti in cui partecipava anche il pubblico era tutta una serie di musicisti c'era molto lo stesso Naiman poi c'era Howard Schempton c'era John White John White è un signore che scrive solo suonate per pianoforte ne scrive più di 800 scrive solo suonate per pianoforte poi c'era Cornelius Cardio che era il loro leader che purtroppo è morto giovanissimo morto a 42 anni investito da una macchina da un pirata della strada e loro era un modo di ribellarsi alle avanguardie diciamo dei vari nono bulezza ma in maniera totalmente diversa sotterranea mentre in America si erano ribellati inventando il minimalismo e non so andando a studiare la musica africana indiana che non avesse connessione con queste avanguardie europee loro invece con questa storia europea ci sguazzavano dentro cioè prendevano cose su temi di parcel le stortavano tutte oppure prendevano in giro le opere barocche oppure prendevano le cose dove metterano dei dischi di Tchaikovsky con sovrapposti suoni delle locomotive cioè l'idea di usare il materiale anche chiamiamolo tonale per loro non era un problema perché la storia era appunto un enorme magazzino a disposizione del compositore il fatto che lui abbia fatto poi il jazzista per molti anni nell'ambito del jazz sperimentale secondo me gli ha dato anche un'apertura particolare la cosa singolare è che poi nulla di questo si ritrova nella musica che scrive adesso cioè è una musica appunto molto cantabile molto malinconica ma dove non c'è traccia né del free jazz né di questi lavori che ha fatto con John Cage niente tant'è vero che molti lo considerò un compositore neotradizionalista diciamo neoromantico neotonale lo chiamano in vari modi perché la sua musica comunque usa la tonalità in maniera molto personale ma è di impianto tradizionale anche ritmicamente adesso la sua musica è molto volutamente molto semplice è proprio una scelta la sua che però è una semplicità che non è altro che il distillato di tutta questa complessità che lui aveva frequentato quando era ragazzo quindi non è semplicistica è semplice che è una cosa un po' divertente non è banale è una semplicità molto efficace molto intensa un po' come quella di Arvo Pert dove ogni nota ha un senso e sono poche ma perché ognuna è carica di significato insomma e Gavin è un personaggio che senz'altro tornerà in un'altra in un'altra veste però è stato forse un segno del destino che il brano sia stato sostituito da uno di Briers proprio perché avevo già pensato a un progetto che lo coinvolgeva che è già partito di cui vi parlerò più avanti e quindi che sia proprio un pezzo suo e una specie di assaggio diciamo di quello che arriverà in futuro qui nei nostri concerti a questo punto grazie e buonanotte ci vediamo spero domani sera perché ne vale veramente la pena grazie grazie